Ecco qua, tutti i bimbi, arrivati in capanna, cammino, vestiti che stanno fumando, ah che bello, ah come si vede che stanno fumando. Vai Riccardo, si sta preparando per la grande abbuffata, ah 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 ah, no no grazie, ho mangiato un pezzettino prima di lardo, rasseggiarlo. Grazie, ecco l'organizzatore, Paolo. Oh, cappellino. Cos'è quella cosa? Che è stata la pappelletta. Grazie, signore.